Ciao ragazzi, oggi primo aprile, stati attenti al pesce d'aprile. Ma che cos'è esattamente il pesce d'aprile? Ci sono varie ipotesi, ma oggi vi racconto quella che è più accreditata. Prima dell'introduzione del calendario gregoriano, il Capodanno si celebrava tra il 25 marzo e il primo aprile appunto. Molte persone però non si abituarono a questa modifica e continuarono a festeggiare il Capodanno come a vecchi tempi. Venivano quindi considerati come gli sciocchi di aprile. Molte persone si burlavano di loro e gli regalavano dei regali vuoti o magari li invitavano a delle feste che erano del tutto inesistenti. Ma perché il pesce? Beh perché il pesce abbocca facilmente al lamo così come le vittime delle burle abboccano facilmente alla presa in giro.